ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti sullele king tv quest'oggi vi mostrerò il mio album calciatori 2019 2020 e faremo il punto sulla mia collezione quindi a che punto siamo arrivati quindi iniziamo subito ragazzi perché non vorrei fare un video troppo lungo come vedete come trofei abbiamo soltanto il trofeo serie a team questo qui ci mancano tutti gli altri questa è la pagina dell'atalanta abbiamo lo scudetto ma ci mancano ancora tante figurine la parte dietro dell'atalanta l'abbiamo completata al 100% abbiamo completato l'autobus la maglia la rosa la figurina speciale quindi questa l'abbiamo sistemata questo è bologna che più o meno è messo come l'atalanta la parte dietro invece ci mancano figurine speciali in mezza formazione il brescia forse siamo messi leggermente meglio delle altre due squadre nella parte dietro ci manca mezza formazione la maglia il cagliari la fiorentina il genoa l'ellas verona dove ci mancano veramente tantissime figurine l'inter con l'inter devo dire non sto messo malissimo la juventus mi mancano veramente tante 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 mi manca anche cristiano ronaldo ancora non sono riuscito a trovarlo ho soltanto la figurina speciale con cristiano ronaldo poi la lazio anche la lazio ce ne mancano tante strano perché solito la lazio trovo veramente tantissimi tutti gli anni il lecce il milan il napoli anche qui ce ne mancano ce ne mancano per mancare proprio il parma e direi che la raccolta siamo intorno al 40 per cento la roma la samp il sassuolo la spalla anche qui ce ne mancano veramente tantissime della spalla il torino l'udinese il film del campionato ragazzi l'ultimo l'abbiamo attaccato domenica però mi mancano le tre le prime tre che si trovano tra i pacchetti ancora non lo trovate queste sono le ultime tre attaccate il film del campionato questo è il calciomercato che uscirà a marzo ragazzi quindi ricordatevi nel team box con il calciomercato ascia a marzo calcio femminile mi manca la fiorentina l'inter il milan e il bari poi giriamo c'è la magica roma c'è ci manca il sassuolo davagnacco e verona l'ascoli non mancano due figurine benevento chievo verona me ne mancano tante cittadella ne manca una sola cosenza ne mancano abbastanza anche della cremonese crotone anche ne mancano abbastanza l'empoli anche prosinone juve sabbia livorno perugia peschiara pisa pordenone salernitana spezia ragazzi che ho soltanto una figurina e l'altra volta trovate l'ho trovata anche doppione oltretutto che mancava avete capito se che roba il venezia la virtus centella andiamo qui ecco il team box del calciomercato che uscirà non perdiamo cielo poi abbiamo i mister sogno azzurro top performance stiamo circa alla metà di dopo performance abbiamo trovati quasi tutti quasi tutti ne mancano alla metà gran gala del calcio mancano tre figurine praticamente per terminarlo scudetti della lega pro e è finito l'album ragazzi questa è la situazione in cui sto io fatemi sapere sotto nei commenti come state messi voi con la raccolta di calciatori panini 2019 2020 ciao a tutti